Le cronache riportano sempre più spesso episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini, soprattutto anziani, per truffarli. Sono innumerevoli le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia, per questo da tempo i carabinieri organizzano in collaborazione con le amministrazioni comunali degli incontri con i cittadini per informarli, non solo su come avvengono le truffe, ma anche su come difendersi. La scorsa settimana l'incontro è stato ad Acquiterme. Questo momento è sicuramente un momento importante per permettere alle persone di evitare di cadere in situazioni molto spiacevoli che poi comunque oltre al fatto che queste persone si introducono e prendono soldi oppure oggetti personali, lasciano anche le persone, soprattutto se un po' anziane, fragili in situazioni poi molto demoralizzanti e difficili. Il truffatore per entrare nelle case o avvicinarvi in strada può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle poste, di un ente di beneficenza, dell'Inps, un avvocato e talvolta anche di appartenere alle forze dell'ordine. I truffatori possono anche fingersi addetti delle società di erogazioni di servizi come luce, acqua e gas. I carabinieri avvertono non lasciate entrare in casa persone che non conoscete e poi chiamateci subito. Il suggerimento, il consiglio è quello di evitare in ogni modo di farli accedere all'interno dell'abitazione e di chiamare, se appunto questi non desistono, di chiamare immediatamente il 112 al fine di verificare appunto l'identità di questi soggetti.